Care amiche e cari amici non solo napoletani, da altre parti d'Italia e del mondo, col cuore vi voglio augurare un sereno Natale, un Natale con l'amore nel cuore, con gli affetti più cari, possa essere un Natale veramente sereno. L'anno che ci lasciamo alle spalle è stato un anno difficile, ma il Natale è il momento in cui le persone si tengono per mano, vogliono vivere emozioni, vogliono anche ricordare le persone care che non ci sono più. Ci avviciniamo a un Natale importante, un Natale importante per la nostra città e per il nostro paese ed è anche significativo ricaricarsi dentro, trovare nuove motivazioni, energie per andare avanti tenendosi per mano. Buon Natale a tutte e a tutti. Grazie.